Una divisa di riconoscimento è la licenza di sanzionare. Da questo fine settimana al lago di Fimon e più in generale nel territorio di Arcugnano arrivano le guardie ambientali grazie a un accordo fra amministrazione comunale ed Enalcaccia che fino a giugno del prossimo anno prevede 104 interventi. I volontari si occuperanno di vigilanza venatoria, ambientale, di flora e fauna e affiancheranno la polizia locale nella sorveglianza delle aree picnic.